Gentili telespettatori, buona giornata. Alvise Perez, l'eurodeputato che arriva da Telegram, che sogna di essere come Giorgia Meloni. Allora, dice, io di estrema destra, ma sicuramente non sono di sinistra, mi hanno votato per combattere la corruzione. Va oltre ogni ideologia, quindi lui non si sente ufficialmente né di destra né di sinistra. E così, è soddisfatto. Entra nel gruppo dei conservatori e riformisti europei, presieduto proprio da Giorgia Meloni. Politico spagnolo, già youtuber, nato e battezzato su Telegram da quasi un milione di follower. Lì il suo movimento di Ardillas, gli scoiattoli con la maschera di Anonymous, conta su tre poltrone, perché 800.000 voti presi alle elezioni europee dell'8 e del 9 giugno. 800.000 voti. E dice il Corriere della Sera che l'ha intervistato che ripete sempre le stesse parole nell'intervista che è stata fatta. Dice, con me non ci sarà più niente, se accabò la fiesta, la festa è finita, promette. Stimo la vostra Premier per la sua lotta contro l'immigrazione illegale, moltissimi punti del suo programma sono in linea con il nostro. Ma il giornalista dice, ma quale programma? Lei non ha nessun programma, non ha presentato nulla, né un manifesto. Dice, volevo che mi votassero solo quelli che mi conoscevano e sapevano cosa avevo fatto negli ultimi cinque anni contro la corruzione, contro la criminalità. Con il passaparola pensavo di vincere un seggio in Europa, invece ne ho guadagnati tre. Lui si presenta come la classica persona contro il sistema, ma il giornalista dice, beh, lei si presenta contro il sistema, ma oggi è nel sistema. Anche lei non le sembra un po' un paradosso, e dice che anche io per primo pensavo che si potesse lottare da fuori. All'inizio mi sono messo a pubblicare su Telegram casi di corruzione scovati in tutti i partiti, chi si comportava male la pagava, mettevo pressione a chi sbagliava, ecco sicuramente usare le risorse del sistema per contrastarlo è molto più facile e pratico. Io cambierei tantissime cose in Europa, anche così tante che al giorno d'oggi sono più attratto dall'idea di creare un'unione di paesi iberoamericani che un'unione europea. Vorrei una commonwealth di tutti i paesi di lingua ispanica, compresi gli Stati Uniti, perché hanno una parte di popolazione che parla castigliano. Sono arrabbiato con l'Unione Europea. Insomma, sembra una sorta di Gianluigi Paragone in versione spagnola, un mix tra Paragone, Salvini e altri, ecco, così, in prima impressione. E lui dice o si cambia la politica migratoria o si rispettano una volta per tutte gli interessi della Spagna o chiederò un referendum di rinegoziazione degli accordi. Italia e Spagna devono prendersi per mano come fratelli per difendere i propri interessi. E poi dice che sorteggerà chi dare il suo stipendio da europarlamentare? Dice ho migliaia di follower, attraverso un'impresa privata, un mezzo di comunicazione mi metterò uno stipendio, ancora non so quanto, ho promesso che non mi sarei arricchito con i soldi di Bruxelles, ad agosto farò il primo sorteggio, l'obiettivo è arrivare a tutti, alla gente di destra e di sinistra, quindi farà un sorteggione per dare il suo stipendio al fortunato sorteggiato. Vabbè, sono sicuro che presto cambierà idea, vedrete, di solito funziona così, si arriva come gli antisistema e poi si diventa parte del sistema e poi si diventa il sistema con la S maiuscola. Beh, lui dice cambiare il sistema elettorale, più all'indipendentismo regionale e poi la costruzione di un nuovo maxicarcere fuori Madrid come quello fatto in El Salvador, non è solo una necessità pratica ma simbolica, i politici spagnoli corrotti devono avere paura della giustizia e poi insomma parla anche, diceva che si sarebbero alleati con dei partiti un po' più estremi, poi è entrato nei conservatori, dice di sinistra non sono, mi definiscono un anticomunista e critico il socialismo, sono cristiano senza dubbio un provita, ho la mia opinione sul matrimonio egualitario e le adozioni delle coppie ma gli spagnoli non mi hanno votato per questi temi su cui io non sono in grado di parlare, bensì perché la mia battaglia contro la corruzione politica, giudiziaria mediatica, va oltre ogni eodeologia. E poi dice Felipe VI deve mantenere l'ordine costituzionale, se firma leggi considerate incostituzionali come quella dell'amnistia allora non voglio che sia il mio re, per me ha commesso un errore storico perché dice la destra difende la monarchia, lei un po' meno, chiede il giornalista, gli chiedono anche chi spera che vinca negli Stati Uniti, ovviamente come molti di destra, indovinate per chi spera che si vinca negli Stati Uniti, indovinate un po', anche perché in Europa, in Italia, che interessa molto poco quello che succede negli Stati Uniti, anche lì i giornali fiancheggiatori della sinistra e i giornali fiancheggiatori della destra hanno cominciato a fare i tifosi anche sulle elezioni americane degli Stati Uniti, ovviamente i giornali di sinistra stanno dalla parte dei Dem, i giornali di destra stanno dalla parte dei Repubblicani, anche se in Italia manco sanno come si pronunciano bene questi nomi, non hanno la minima idea di come sia la politica negli Stati Uniti, l'italiano comincia a tifare per qualcosa che neanche sa, perché ha izzato dai giornali fiancheggiatori le aree politiche italiane, perché si deve fare questo, nel senso visto che i temi non ce ne sono in Italia, un paese con 3.000 miliardi di debiti e 90 miliardi di interessi, allora comincia a tifare anche per le elezioni straniere, perché bisogna tifare contro qualcuno, pro qualcuno e contro qualcuno, perché la politica oggi è tifare contro qualcuno, non per i programmi, ma contro qualcuno, quindi per le caratteristiche della sua politica, ma non per i contenuti, si tifa pro o contro per come parla e soprattutto per dove è incasellato, se è incasellato a destra bisogna tifare per lui, se è incasellato a sinistra bisogna tifare contro di lui, quindi in Italia spesso non si sa neanche come si pronunciano questi nomi in inglese, però c'è chi tifa, c'è chi sa, ma in realtà sa molto poco o niente. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video, tra una ventina di minuti, arrivederci a tutti e grazie, ricordatevi che c'è anche poi Tele Italia Seconda Rete, questi video poi sono condivisi anche in Facebook, X, LinkedIn e Triads. Buona giornata.